Tutti noi sappiamo che il cattivo per eccellenza del Signore degli Anelli è lo scuro Signore Sauron, quello che ha costruito l'anello, quello che ha riversato in esso parte della propria volontà e della propria malvagità, quello che ha irretito i portatori degli altri anelli per poterli dominare, per poterli controllare. È lui questo cattivo contro cui si riuniscono tutti gli sforzi dei popoli liberi per farla finita con lui, per liberarsi dal suo gioco. Tutto il romanzo infatti è volto alla distruzione dell'anello e quindi alla caduta di Sauron, alla dissoluzione del suo potere. Anche se Sauron, poi noi sappiamo, non è l'unico cattivo all'interno del leggendario un tulkeniano, ce n'era un altro prima di lui, anche più potente, Morgoth o Melkor, Morgoth come lo chiamavano gli Elfi, il nemico, cioè colui che si leva in possanza, il Valar che si è opposto a Ilúvatar nella creazione del mondo e che poi ha continuato ad esercitare il suo potere proprio all'interno di questo mondo. Sauron è il suo logotenente che ne ha preso il posto, come è cattivo a tutti gli effetti. C'è però un altro cattivo che rimane nell'immaginazione dei lettori quando si affronta il Signore degli Anelli e questo cattivo è il mago Saruman, uno degli istari, degli stregoni che vengono inviati nella Terra di Mezzo per opporsi al male. Saruman è come Gandalf a parte del suo stesso ordine, è proprio come lui. È un maier, un'intelligenza angelica di tipo minore rispetto ai Valar. Ma Saruman è più sapiente in quanto è stato mandato specificamente nella Terra di Mezzo per essere sapiente nelle cose che riguardano i Grandi Anelli. Purtroppo Saruman con il tempo comincia a pervertire la sua intelligenza e a pensare che lui stesso può utilizzare l'Anello ai suoi fini. Tradisce insomma la missione per cui è stato mandato nella Terra di Mezzo. Lo vediamo per la prima volta in azione nel Signore degli Anelli nel capitolo del Consiglio di Elrond quando Gandalf racconta tutta la vicenda che l'ha portato a vedere Saruman e a rimanere imprigionato sul pinnacolo della torre di Hortank a Isengard. I due hanno un confronto, uno scambio di battute e una divergenza di opinioni e si capisce già che Saruman ormai ha preso una deriva rispetto alla sua missione. Ha tradito la causa comune. È l'emblema stesso del politico che cerca di cavalcare l'onda pensando di poterla controllare, di seguire la storia per riuscire a realizzare i propri progetti personali. La stessa definizione che lui dà di se stesso, cioè Saruman il multicolore, non più bianco come doveva essere la sua carica Saruman il bianco, ora lui si fa chiamare Saruman il multicolore, cioè conferma la sua capacità di adattarsi alle situazioni e ai problemi che si presentano. E quando Gandalf si oppone ed esprime la sua preferenza per il bianco, Saruman risponde sprezzante che il tessuto bianco si può sempre tingere e la luce bianca frangere. Nel qual caso, replica Gandalf, non sarà più bianca e chi rompe un oggetto per scoprire che cos'è ha lasciato la via della saggezza. Come nota Verlin Flieger nello splendido saggio Schegge di luce, nel suo orgoglio e nel suo tentativo di imporsi a una causa superiore per affermare la propria, Saruman ha spezzato la luce e quindi ha franto se stesso. Il potere emergente è quello di Mordor? Allora per Saruman la soluzione è allearsi a Mordor, tentare di diventare il suo amico, per poi restare alla finestra a vedere come evolvono le cose e nel caso sganciarsi. L'importante per Saruman è sempre quello di mantenere ben fisso il proprio obiettivo attraverso quello che potremmo definire un pragmatismo di convenienza e questo obiettivo per Saruman corrisponde sempre alla conoscenza, al governo e all'ordine. È lo stesso Saruman che lo spiega molto lucidamente a Gandalf dicendo Un nuovo potere sta emergendo, contro il quale a niente gioveranno manovre e alleanze di un tempo. Non c'è più da sperar negli Elfi o in Númenor che muore. Questa è dunque la scelta che si presenta a te, a noi. Possiamo unirci a quel potere. Sarebbe cosa saggia, Gandalf. Lì c'è da sperare. La sua vittoria è imminente e ricca sarà la ricompensa per chi ha prestato aiuto. Con la crescita del potere cresceranno anche i suoi amici fidati e i saggi, come me e te, armati di pazienza, finiranno per tracciarne l'indirizzo, controllarlo. Si tratta di aspettare il momento opportuno, di custodir nell'animo i pensieri, deplorare magari il male fatto lungo la strada, ma applaudere allo scopo ultimo e supremo, la conoscenza, il governo, l'ordine. Tutte le cose che finora abbiamo tentato in vano di realizzare, ostacolati anziché aiutati dai nostri deboli o indolenti amici. Non ci sarebbe un vero cambiamento. Non ce ne sarebbe bisogno nelle nostre mire, solo nei mezzi. Gli obiettivi sono sempre quelli, sono buoni. Poi cambiano i mezzi. Poi magari questi mezzi portano alla morte di qualcuno, a qualche disgrazia, beh, pazienza, il fine giustifica i mezzi. Non c'è alcun bisogno di combattere una battaglia persa. Occorre solo cercare di controllare la situazione, evitando il peggio e mantenendo sempre molto ben chiari i propri obiettivi, che sono sempre buoni. E qui vediamo la convinzione di Saruman di essere nel giusto, in quanto crede che lui e anche Gandalf, in quanto stregoni, possiedono la verità in tasca. Saruman è convinto che la saggezza possa sempre vincere contro la malvagità, tenendola a bada. Potremmo quasi dire che basta la saggezza per governare la storia. La sua idea è quindi quella di allearsi con Sauron, per cercare di deviarne le intenzioni, anche a costo di utilizzare l'anello. Saruman pensa che l'anello sia solo un mezzo che non contamina assolutamente le intenzioni, che per lui rimangono sempre buone, sacrosante e giuste. E qui si vede la sua follia, perché Saruman pensa di poter controllare l'anello, di esercitare la propria volontà sulla volontà di Sauron, mentre per tutto il romanzo del Signore degli Anelli viene detto che l'anello non può in alcun caso essere utilizzato, perché l'anello è sempre cattivo, e anzi si insinua proprio all'interno delle buone intenzioni dei vari personaggi. Anzi, l'anello funziona un po' da moltiplicatore delle buone intenzioni, però alla fine, utilizzandolo, si arriva sempre a fare il male, perché si esercita sempre la volontà di qualcun altro, cioè quella di Sauron, che è sempre cattiva. Questa convinzione di Saruman di agire in nome della conoscenza, della saggezza, si vede molto chiaramente nella sua trasformazione di Isengard, cioè la sua residenza, che immersa nel verde, viene radicalmente cambiata e diventa il centro di una zona industriale, una fucina, una creazione di macchine belliche e di produzione eugenetica di creature, di orchi modificati. In questo caso Tolkien connette due tematiche, quella della magia e quella della tecnica, ed è molto esplicito al riguardo in una lettera. La 131, nella quale Tolkien considera la macchina la forma moderna più ovvia del desiderio, perché permette di raggiungere immediatamente quello che si desidera, in maniera rapida e veloce, nonché in maniera più strettamente collegata alla magia di quanto sia solitamente ammesso. È curioso questo accostamento, perché in questo caso la figura di Saruman è perfetta per esprimere tutto questo. La tecnica e la magia vengono utilizzate allo stesso modo per raggiungere un qualcosa, un obiettivo, che è sempre dipendente dalla propria volontà di comando, di potenza. Come la magia, la tecnologia accelera e amplifica l'effetto delle nostre azioni sul mondo, comprese quelle che scaturiscono dalle intenzioni malvagie. Fin troppo spesso, osserva Tolkien, la nostra smania di ottenere qualcosa, travalica la capacità di pensare alle conseguenze delle nostre azioni e soprattutto non ci fa tenere conto del concetto di responsabilità. Anche l'azione di Saruman, che prevede l'abbattimento degli alberi e della foresta di Fangorn, porta a delle conseguenze concrete all'interno del romanzo. Intacca dei valori profondi, che portano a sacrificare, in questa azione, la natura e l'umanità. Poi Saruman viene preso d'assedio dagli Ent, i pastori d'alberi, che arrivano a Isengard e di fatto lo prendono prigioniero, chiudendolo all'interno del suo pinnacolo di Hortank, la sua residenza. E quando i nostri eroi Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, Merry, Pippin con l'esercito di Rohan arrivano al pinnacolo di Isengard, si trovano a che fare con il mago chiuso dentro, che sembra braccato e sconfitto, ma che in realtà è ancora molto potente. Forche cornacchie! È un capitolo straordinario, intitolato La voce di Saruman, che si basa tutto sul potere di Saruman, che è quello della sua voce. Cioè assistiamo a un dialogo continuo tra i vari personaggi e il mago imprigionato. Uno dopo l'altro i vari personaggi cadono sotto la sua influenza, mentre lui assume una posizione sempre diversa a seconda del proprio interlocutore. E ancora una volta torna il suo pragmatismo pacato, che sembra ragionevole sotto ogni punto di vista. Anzi è condivisibile, perché la sua voce sembra un nettare che riscalda il cuore, che sussurra parole sensate, ragionevoli, condivisibili, addirittura in grado di scaldare il cuore. Saruman dice a ogni persona quello che questa persona vorrebbe sentirsi dire, e in questo modo appare come il più saggio e il migliore dei consiglieri. Molto diverso da Gandalf, che invece dice le cose come stanno, e che di fatto non piace a nessuno, perché inchioda chiunque ha la propria responsabilità. Saruman si rivolge a Theoden, gli rivolge parole piene di comprensione, offre un'alleanza, un'alleanza tra Isengard e Rohan, e riesce addirittura a capovolgere le parole di Gandalf, facendo apparire il rivale Gandalf come il peggiore dei consiglieri, agli occhi dello stesso esercito dei Ruhrim. Il testo dice che questi avevano l'impressione che mai Gandalf avesse rivolto al loro signore parole così belle e acconce. Alla fine, Theoden, provato duramente da questa tentazione della voce di Saruman, riesce a tornare in se stesso e a spezzare l'incantesimo, con parole molto dure, anzi dicendo che questa pace non sarà mai possibile. E allora Saruman gioca la sua ultima carta, trattando tutti come degli invasori e dei pezzenti, e rivolgendosi a Gandalf cercando di portarlo per l'ultima volta dalla sua parte. Essendo maghi, loro sanno come vanno le cose nel mondo. Sono quelli intelligenti che possedono la conoscenza, e quindi è chiaro, secondo il suo punto di vista, che siano loro a decidere per tutti. Dice il testo, Così grande era l'ascendente esercitato da Saruman in questo suo ultimo tentativo, che nessuno degli ascoltatori rimase indifferente. Ma ora l'incantesimo era di tutt'altro genere. Udivano le lievi rimostranze di un benevolo re a un ministro che sbaglia, ma che è molto amato. Loro però erano esclusi, ascoltavano sull'uscio parole non rivolte a loro. Bambini maleducati o servi stupidi, che origliano i discorsi sfuggenti dei grandi, e si preoccupano delle conseguenze che potrebbero avere per loro. Quei due erano fatti di un più nobile stampo, saggi e venerabili. Un'alleanza tra di loro era inevitabile. Gandalf sarebbe salito sulla torre, per discutere di cose profonde, e al di fuori della loro portata, nelle alte stanze di Hortank. La porta si sarebbe richiusa, e loro sarebbero rimasti fuori, in attesa di vedersi assegnare compiti o castighi. Tutti, cioè, sono pronti a capitolare. Riconoscono che tra loro e gli stregoni non c'è possibilità di partita. Ancora una volta, la voce di Saruman ha ottenuto il suo effetto ammagliatore. Ma Gandalf è l'unico che riesce a resistere, ed è anche l'unico che spezza l'incantesimo con una risata. Ormai ha imparato a capire come ragiona Saruman, e sa come prenderlo. Gli dà solo la possibilità di scegliere se aiutarli o no, perché l'unico modo per salvarsi è quello di ridimersi dalle proprie azioni e aiutare questa compagnia di valorosi a combattere la loro battaglia contro il Signore Oscuro. C'è ancora possibilità di salvezza, ma Saruman rifiuta, e Gandalf distrugge il suo bastone, spellendolo dall'ordine. Gandalf ne prende il posto. Come dice lui stesso, io sono Saruman, o meglio, Saruman come avrebbe dovuto essere, quando ormai Gandalf il grigio è diventato Gandalf il bianco. È lui che riveste il colore bianco, e non sceglie di diventare multicolore come Saruman. Saruman avrà un'altra occasione di redenzione, quando dopo la sconfitta di Sauron, Gandalf e gli altri lo ritroveranno quando è fuggito da Hortank e ha lasciato la sua prigione dove lo tenevano gli Ent, di nuovo a Saruman viene offerta la possibilità di ridimersi, di aiutarli, e invece Saruman rifiuta sdegnosamente, e anzi ha parole di odio nei confronti degli Hobbit, giurandogliela e promettendo che gliela farà pagare. Anzi, lui ha già messo in piedi un qualcosa di cui gli Hobbit si accorgeranno presto, cosa che succederà. E infatti Saruman ha impiantato una specie di regime industriale, di tipo statalistico e dittatoriale, nella Contea, che poi sarà la fine del romanzo. C'è una progressiva caduta di Saruman all'interno della storia, sempre di più. Saruman conosce una degradazione morale sempre maggiore. Ha una prima apertura di tipo furbo, come abbiamo visto, quella di pensare di poter governare l'onda, di fare il politico della situazione. La smania per il potere lo porta sempre più a chiudersi, e a tentare una via personale di affermazione, e a rifiutare ogni possibile grazia, e ogni possibile tentativo di ritornare sulla retta via. dimostrando una ben scarsa bontà, mitezza e misericordia nei confronti degli altri. Tutte cose che poi gli si ritorceranno contro e porteranno alla sua drammatica fine nella Contea. Insomma, Saruman è un personaggio molto sfaccettato, molto complesso, forse il cattivo più problematico all'interno del Signore degli Anelli, perché è quello che ha a che fare maggiormente con il nostro mondo, con la nostra realtà, una società nella quale ci troviamo a gestire svariate spinte, e spesso pensando di fare proprio come Saruman, di fare quelli intelligenti, quelli che la sanno lunga, che in virtù della nostra saggezza, della nostra sapienza, possiamo governare gli altri. Il grande messaggio invece del Signore degli Anelli che ci dà Tolkien è che l'umiltà è proprio quella che invece ci tiene con i piedi per terra e che ci permette come Gandalf di dire le cose come stanno pensando in primo luogo agli altri e alla loro felicità.